Rientrava dalla Romania del 57enne connazionale MB residente del Biellese, arrestato per il discorso Fernetti dagli agenti della polizia di frontiera triestina. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Trieste nel 2009 in quanto deve scontare una pena residua di un anno, un mese e 11 giorni di reclusione. Nel 2008 era stato condannato in via definitiva per il reato di riciclaggio commesso nel capologo Giuliano MB Ora, che si trova nel carcere del colonneo, ed è stato identificato durante le consuete attività di retrovalico a bordo di un altro uomo romeno arrivato dalla Slovenia e diretto a Roma. Sabato scorso, sempre a Fernetti, sono stati denunciati in due distinti controlli di retrovalico due cittadini romeni. All'alba era stato bloccato con l'ausilio del personale e del commissariato di Duina Orisina nella sezione polizia stradale di Trieste, un furgone con taga francese che poco prima aveva sfondato la barriera al casello autostradale dell'Isert, proseguendo poi verso Trieste. All'interno del veicolo, in una valigia, sono stati trovati e successivamente sequestrati un cortello serramanico con una lama di 10,5 cm, una caramina smontata e 5 cartucce. Il conducente del mezzo, il 26NFF, questi nei suoi iniziali, vistosamente agitato, è stato quindi denunciato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e porto abusivo di armi, per cui non è ammessa la licenza. Nel pomeriggio è stato invece controllato l'altro cittadino romeno denunciato, il 27NLC, diretto in Slovenia alla guida di un'autovettura bulgara. Il giovane ha esibito una carta di circolazione contraffatta e per lui è scattata una denuncia per uso di atto falso.